Ciao ragazzi, avete mai sentito di un'app per il telefono che si chiama Rappi? È un'app tipo Uber Eats, Deliveroo, eccetera. Adesso ve la faccio conoscere. Basterà aprire l'app di Rappi, scegliere il ristorante che più ci piace. Io in questo caso ho scelto McCartney's Iris Pub, che è uno dei migliori per quanto riguarda gli hamburger. Ho scelto l'Old McCartney's Glasses Burger, che costava 140 peso, circa 6 euro, ma l'ho pagato 110, che sono circa 4,50 euro, con consegne e tutto, grazie agli sconti che Rappi offre tutti i giorni. Qua il ristorante stava già preparando il mio ordine. Rappi è arrivato al ristorante. Rappi è già in cammino verso casa mia. Ok, è arrivato il Deliveroo con la pappa, andiamo. Grazie. Adesso vi faccio vedere. Vediamo, vediamo, vediamo. Ebbè, guardate che bomba. Che bomba di panino. E ragazzi, tutto questo, con la consegna e tutto, ho pagato 4,50 euro. Voi non potete capire quanto è buono. Sei una bestia. Soddisfatto. Al prossimo video.